forza molto movimento bravo eccole così vai e ragazzi ancora andate in discoteca e come parlate ok va bene tutti in posizione come eravate prima bellissimo andiamo a rimettere la base io intanto vorrei un ringraziamento al Gilda alla signora Bornigia io ho dei ricordi bellissimi di Giancarlo Bornigia noi le nominiamo vai alza la musica grazie a tutti 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 grazie a tutti